ecco che luca è tornato ragazzi purtroppo c'è stato un piccolo problema di linea ma tutto bene tutto bene allora salutiamo malcom che ci siamo sentiti oggi ciao malcom e andrew che sarà un tuo socio dello stay strong festival ti abbraccio caramente un amico mxpx 1989 salutiamo tutti e quindi direi che a questo punto luca fa un po una presentazione di te e chi sei dai un po il tuo background prima di parlare del festival allora io sono luca vengo da diciamo da un po di anni o un po di anni sulle spalle di un po di gavetta io nasco come batterista fondatore dei daf se qualcuno conosce e quanti anni hai 41 41 compiuti il giorno in cui ci hanno praticamente chiusi in casa il 10 marzo auguri grazie mille andrew nulla quindi cioè e tu vieni precisamente da che città io sono di cosenza calabria calabriformia sud italia quindi qui oltre a essere stato membro di una band molto importante per il panorama punk rock italiano in più a voi va aggiunto la vostra provenienza infatti la calabria che penso sia 10 20 volte più difficile il vostro percorso rispetto a una band e che viene dal nord da un qualsiasi posto del nord sì diciamo che questa cosa qua è anche la nostra forza tra virgolette nel senso che comunque la voglia di per noi non ti parlo del 1998 quando abbiamo cominciato era tutto molto più difficile comunque muoversi da cosenza per andare a fare dei tour al nord italia era era un casino però ce l'abbiamo fatta nel senso ci siamo presi le nostre buone soddisfazioni e da gruppo diciamo semi sconosciuto siamo riusciti arrivando a livello buono mantenendo comunque una certa integrità e non prendendo per i fondelli mai nessuno facendo le nostre cose in maniera più spontanea e diciamo è verace insomma cosa che ci veniva più spontaneamente quindi boh questo qui ora dal visto che è diventato in qualche modo un'etichetta discografica e ne fai parte del progetto no no io non faccio parte ok no no in maniera diretta no con la mia band diciamo si siamo prodotti coprodotti anche da loro con la mia nuova band da frecords ora rimane a cosenza oppure si è spostata no no è sempre giù da noi siamo siamo di rimpettai tra virgolette siamo molto amici tra l'altro della band di luca ne ho parlato abbastanza recentemente in un video spiegone o forse in un paio perché mi eravate piaciuti parecchio si chiamano a cross e fanno hardcore in italiano molto molto figo grazie mille andre conta che siamo nati un anno e mezzo fatto e guarda la fortuna vuole che avremmo dovuto avere la nostra prima data del tour il 13 marzo proprio subito dopo il down esatto comunque ci rifaremo tra l'altro vi dico già che siete una band che mi può molto interessare per fare il format in sala prove quindi sai quel format dove vado in sala prove dalle band eccetera quindi può darsi che una volta che finisco di lavorare verso settembre ottobre e parto verso il sud e vi vengo a trovare sarebbe bello fare una puntata con voi cacchio cacchio sei mio ospite andre sarà un piacere è mio ospite considerati già mio ospite io vivo con un cane quindi amen perfetto l'importante che non ci sia un gatto perché sono tipo super allergico no io li odio i gatti li trovo opportunisti non posso dire che li odio perché dopo la mia fidanzata e si in casa no no vai tranquillo si può dire di tutto siamo libero allora però siamo qua per parlare di questo progetto che sinceramente non ho capito tanto lo stay strong festival mi vuoi dire in cosa consiste allora ti parlo un attimo di come di come nasce della cosa più figa secondo me in piano lock down in sostanza io non avendo come quasi tutti un cazzo da fare ho inventato questo format senza diciamo una tecnica prestabilita di fare questi video giornalieri in cui io esortavo la gente a mantenersi forte in virtù del fatto del che eravamo tutti chiusi in casa poi un giorno una sorta di video emotifazionali esatto esatto che i ragazzi della mia città i miei amici e non hanno molto apprezzato da un giorno mi si è accesa una lampadina ho detto cazzo ma sta roba qua io ho organizzato concerti per diversi anni giù ho detto potrebbe diventare un festival e ho messo dentro il mio mio fratello andrea che sarebbe il mio collaboratore andrew ho detto andrew fratello 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 non fratello di sangue fratello di amicizia e ho detto andrea io voglio fare sta cosa qua mi aiuti perché no cazzo allora ho cominciato avendo molto tempo libero a a coinvolgere realtà amici miei che organizzano concerti live ma non solo in tutta italia ho detto ragazzi io voglio fare sta roba qua vi andrebbe di partecipare a questa roba qua perché in sostanza te lo faccio molto breve andrew vai vai lo stay strong festival sarà un diciamo un un'occasione artistica quindi non si parlerà solamente di concerti piuttosto si parlerà di di mostre di battiti di tecno di metal di punk di hardcore di ska insomma arte a 360 gradi che verrà fatta in tutta italia ovviamente noi stiamo aspettando sperando che arrivi presto quando non ci saranno più costrizioni non ci saranno più avete già una data ipotetica non abbiamo nel senso non abbiamo perché nel momento in cui ci libereranno fra virgolette per fare gli spettacoli in maniera libera la partiremo col col festival e il senso del festival caro andrea che la cosa più importante per noi è quello lì che oggi come oggi il lockdown magari qualcuno se lo ha lo ha anche dimenticato ma io personalmente non l'ho dimenticato cioè sentirsi parte di una roba cioè non so come spiegato meglio so come spiegato cioè sentir sentirsi vicini a qualcuno ok in un momento determinato della propria vita non vedo perché non debba esserlo sempre quindi io ho detto cazzo uniamoci uniamoci in tutta Italia facciamo una cosa insieme e diamo questo grosso segnale che la scena alternativa in Italia c'è non è completamente morta ma si è un po' assopita quello sì Andre si è un po' assopita ha bisogno di di risvegliarsi o meglio ha bisogno di nuovi stimoli io ho smesso di organizzare forse perché ho visto dall'altra parte della barricata che le nuove generazioni avevano poco da apprendere sbagliando noi dobbiamo credo che siano persone un po' più grandi e più mature che hanno più esperienza dire ai giovani di oggi che ragazze se siamo in mille in tutta Italia peccato peccato vediamo se riusciamo a recuperarlo come abbiamo fatto prima se no vado avanti io quindi da quello che ci sta dicendo Luca lo stay strong festival e consiste appunto in questo festival del mondo alternativo provare a riuscire a riunirlo in tutta Italia che avrà che si potrà fare penso appena e libereranno un po le gabbie allora intanto leggo la chat per mxpx era molto interessante malcom dice a parte il romanticismo di sempre avete avuto una bellissima idea sarà un festival veramente importante sarà un onore rappresentare l'abrusso a quindi e tu per esempio malcom e farai parte e dello stay strong festival e lo farei in abrusso e se ci vuoi dire anche in quale città e facci sapere e magari può togliere il video e il problema che credo abbia Luca non credo sia un problema audio o video ma proprio di connessione perché anche prima inizio live era 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 crollato quindi e mentre quindi credo che sia dovuto alla connessione e non al fatto che sia audio e video fa sapere allora malcom se tu lo farei in abrusso e se hai già in mente una città in particolare a ecco certo conosco luca da tanto tempo mi ha contattato subito non le faremo da atri teramo quindi si aumenta il raggio dello stay strong festival sicuro appunto sarà in calabria ecco luca che dovrebbe ritornare eccoci chiedo scusa raga chiedo scusa ma non non è mai stata così ballerina la linea ok va bene andiamo avanti vai vai ci sono e stavi raccontando in cosa consisteva appunto lo stay strong festival e chi ha esperienza che ha più esperienza magari riuscire a tirare dentro altre persone per poter fare qualcosa tutti insieme tutti insieme esatto il concetto è proprio quello la facciamo le cose insieme perché in teoria non c'è motivo per cui non farlo molto semplicemente molto in genere quindi dare questo segnale io trovo che sia una cosa bellissima al di là del discorso del punk dell'arcore di quale genere possa racchiudere questa questa storia qua trovo che creare troviamo che creare una rete sia una cosa sia la cosa più importante e quindi ritornare un po alle origini tra virgolette nel senso il punk l'arcore nasce da una rete non scordiamoci che i famosi scambi il famoso scambio date che si faceva con le band una volta si fa ancora si fa ancora sì 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 ovviamente però andre si fa molto meno si fa molto meno ma i tempi sono cambiati normale luca cioè sono cambiati tempi siamo cambiati noi è ovvio che non ci può essere la dinamicità di quando avevamo 17 o 20 anni adesso che ne abbiamo 40 però è in qualche modo bisogna andare avanti e adeguarsi ai tempi che sono e adesso magari più che lo scambio data e contatti un promoter su facebook eccetera volevo farti una domanda io adesso e ho intenzione di venire allo stay strong festival arrivo e cosa mi trovo cosa ho davanti un palco perché mi hai detto varie situazioni un palco oppure una mostra allora può essere costituito e soprattutto dove in che spazio della città allora io qua ti parlo per la mia per la mia città che è quella che diciamo io noi siamo gli diciamo le menti pensanti e abbiamo dato diciamo completa libertà a tutti gli attori che parteciperanno quindi sarà a bologna sarà a milano sarà a bergamo sarà scritto malcom che lui organizzerà ad atri per esempio si lui organizzerà a terramo si atri e come la farò io giù a cosenza da me ci saranno le mostre e ci saranno anche delle degli spettacoli teatrali tutto nell'arco della giornata perché il format sarà così unica giornata tutti quanti stesso nome e ci sarà un momento della giornata in cui faremo un grande collegamento tutta italia tutta italia sarà collegata e ogni ogni organizzatore diciamo dirà la sua per creare questa famosa rete diciamo io a cosenza ti ripeto farò la mattina mostre dibattiti il pomeriggio farò dj set con skater poi farò degli spettacoli teatrali poi la sera farò dei live di dibattiti dibattiti noi io ho coinvolto alcuni psicologi che tratteranno il tema della diciamo di come la gente ha vissuto il lockdown e di come le ha cambiati in sostanza te la faccio molto breve ok allora qua ci fa uno spunto mxpx sarebbe da fare bello suonare nelle scuole che adesso si fa poco almeno da lui ti ricordi quando si suonava nelle scuole e si aveva il modo di arrivare ai ragazzi giovani subito cazzo se mi ricordo sì sarebbe bello poterlo fare mpx mi sono impallato mi ha dato una grande idea sarebbe una cosa finissima e allora da quello che mi hai detto e prenderà tantissimi tantissime sottoculture questo festival e che vengono da background e molto molto differenti e qual è l'anello di congiunzione secondo te di tutto questo l'anello di congiunzione diciamo è l'amore per l'amore spassionato per l'arte a 360 gradi che non è solo la musica e la la passione la passione per una cosa che personalmente mi ha cambiato la vita e mi ha reso una persona sicuramente migliore che è la musica diciamo il diciamo l'anello di congiunzione fra queste realtà tutte le realtà che che io ho coinvolto quasi tutte sono miei amici persone che io reputo miei amici persone di cui mi fido ad occhi chiusi per cui direi malcolm mariolina luca fai fai quello fai fai come meglio credi perché so che lo farei bene questo e quindi e diciamo che e tu hai un'idea però le linee guida sono abbastanza cioè e c'è qualche linee guida o meglio quello di di prendere in considerazione l'arte a 360 gradi poi ognuno la propria città lo svilupperà un po come meglio crede come meglio crede perché ovviamente ogni realtà ogni persona conosce fra virgoletti i suoi polli e sa come gestirlo voglio dire se in una città come bologna l'organizzatrice che è sa che la per perché funzioni deve farlo in una determinata maniera ovviamente io non sto io a dirgli luca garro senti non puoi farlo così no fai quello che vuoi perché so che lo farei bene precisamente a cosenza dove lo farai andrei il discorso è che non si non sapendo quando potrò potremo farlo se dovessi farlo all'aperto ora ti direi in un posto se dovessi dirsi all'aperto ti dirà un altro posto questa cosa è ancora in ballo nel senso che nessuno sa in sostanza dove farlo perché magari che ne sai ad agosto ci diranno raga siete liberi ok da là in poi ci muoviamo quanto tempo servirà per l'organizzazione di tutto questo ma guarda per come ci stiamo muovendo tutta realtà non è molto difficile perché ognuno ha già ben chiaro più o meno quello quello che farà quindi sarà questione solamente di diciamo di prenderne atto di andare a parlare con locale piuttosto che chiudere la data al centro sociale piuttosto che al circolo piuttosto che diciamo alla galleria d'arte guarda un mese un mese un mese di tempo si fa credo io ok deve essere non deve essere facile riuscire in qualche modo a coordinare sia la comunicazione che che tutto quindi diciamo e lo so la passione tutto quanto ma chi te l'ha fatto fare qual è stata la tua motivazione la mia motivazione è sempre la passione Andre non non c'è non ci può essere altra roba che muove una cosa del genere è la fortuna di aver trovato gente che ha sposato e ha capito immediatamente il progetto perché guarda veramente non 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 ci sono voluti mesi per organizzare o meglio per per capire veramente chi chi poteva essere parte del progetto c'è voluto una settimana Andre e non sto dicendo una minchiata non sto dicendo una minchiata e invece dal punto di vista comunicativo come pensate di muovervi per il momento non avete neanche fatto la pagina facebook visto su instagram è uscita è uscita la pagina sì devo ringraziare una persona che è una mia una una mia carissima amica che si è si è offerta gratuitamente la IQ agency di Milano io ho spiegato l'ho spiegato il progetto e mi ha detto Luca cazzo che figata della cura io la promozione siamo partiti con con instagram dieci giorni fa non so se sai e c'è la pagina instagram stay strong festival usciremo con facebook a brevissimo e faremo ovviamente seguiremo i passi canonici e dettati dalla diciamo dalla promozione faremo le sponsorizzate loro sapranno come fare io non non è non sono un granché su questa roba quindi mi affido a chi lo fa per lavoro i Q agency di Milano spaccano i culi andrea ok e l'evento sarà gratuito a offerta libera e come pensate di come può essere sostenibile un progetto del genere perché immagino che ci saranno dei rimborsi spese da dare e tutto quanto quindi dai come può essere economicamente sostenibile tutto questo in linea di massima ci sarà un ingresso sicuramente perché comunque altro altro aspetto molto importante da considerare considerare il fatto che parecchia gente che lavorava nel diciamo nell'arte quindi che suonava piuttosto che faceva altre robe è rimasto col culo per terra quindi noi che organizziamo un festival chiedere 5 euro di ingresso se non 10 per diciamo per dare un anno a questa gente qua perché comunque ci saranno service che lavoreranno band che suoneranno artisti che verranno a proporre il loro spettacolo verranno tutti ovviamente pagati quanto chiederanno quindi questo si si pagherà un ingresso ok non saranno cifre diciamo esose ognuno saprà come come gestirle ma sì ci sarà un ingresso messier g saluta da geneva che credo sia e sì ti sento ti sento ti sento malissimo andre forse ho paura che stia ricrollando la connessione intanto abbiamo chi si segue anche da ginevra dalla svistera e si salutano e quindi molto molto interessante l'idea quindi è quella di far pagare un prezzo però questo aumenta in qualche modo la difficoltà in quanto deve essere fatto in un'area che in qualche modo deve essere circoscritta purtroppo non ho sentito bene andre prova a ripetere il fatto di far pagare un prezzo d'ingresso è l'idea migliore per finanziare questo progetto però aumenta forse un po la difficoltà in quanto il festival deve essere fatto in un'area ben circoscritta all'interno della città quindi che vada in qualche modo chiusa ovviamente quelli sono problemi di noi promoter che ovviamente sono non sono problemi insormontabili assolutamente no guarda io spero che spero io ci credo al fatto che possa venire tanta gente a questo festival è una cosa che mi auguro perché è una cosa che a cui tengo veramente moltissimo sì ovviamente se l'area va circoscritta va circoscritta è questione logistica ma avete un'idea su come suddividere le aree per esempio e che ne so se avete un promoter da Modena e uno da Bologna magari sono troppo vicini e quindi cercate di raggruppare in delle macrozone oppure essere più capillari possibili come la vedete per il momento guarda per il momento ti dico ci sono del diciamo delle realtà che tra virgolette si vanno a cozzare c'è nel senso un po vicine mi senti sì ti sento ti sento andre ti sento ok più vicine però però ti dico che ad esempio ti parlo di due promoter di una regione non faccio nomi i due promoter si sono già sentiti per vedere di organizzare al meglio per vedere di organizzare al meglio la cosa quindi cercare di fare magari cose diverse piuttosto che suddividersi dei determinati gruppi cioè la collaborazione è a 360 gradi non ci sono nessun non c'è nessun tipo di problema in questo senso se tu pensi che in Calabria andre lo faccio io a Cosenza lo fanno a Reggio Calabria e lo fanno a Catanzaro in Calabria sono in Calabria 3 fai un po' te avete già fatto un conto ipotetico delle città che ci possono essere al momento siamo intorno a 17 wow non male assolutamente wow 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 sì benissimo benissimo scritto scritto u a u u a u ovvio c'è altri modi di scriverlo mentre per quel che riguarda gli artisti e si sa già chi ha aderito si si può già fare qualche nome no non si possono fare nomi no ok giustamente a domanda rispondo andre no 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 fai bene fai bene no per dire un po e se già qualcuno sapeva già come muoversi intanto è norma no norma però la pensa in maniera diversa w a u u lo vuole scrivere wow così wow wow ciao no wow vabbè sì figo bello ci sta bello slang bello slang ottimo ottimo sono molto contento di vedere che stia nascendo tutto questo e mi auguro che possa in qualche modo succedere il prima possibile anche perché e se succede vuol dire che e si potrà tornare alla normalità in quanto prima tu da organizzatore di concerti e come lo vedi il post lockdown lo vedo triste per il momento triste però andre voglio dire non c'è poco da fare purtroppo la situazione è quella che non è stato facile ancora non ne siamo usciti per cui in questo momento bisogna camminare un po con con cautela per cui ci sta cioè fa cagare ma è giusto che sia così voglio dire mentre per quel che riguarda la prospettiva di stay strong ovvio che adesso e siete altamente concentrati in quello che sarà il festival che la data ancora da destinarsi e però da questo può nascere qualcosa di continuativo oppure ecco deve deve nascere anzi è nata qualcosa che continuerà e che cambierà anche il format ti anticipo questa cosa qua che già sto ragionando da qua due anni ti do un'anticipazione sul modello Vans Warped Tour ok cambiamo la modalità cioè non facciamo la localizzata ma prendiamo creiamo una grossa caravana che prende un carostone che va in giro che va in giro bravo questo qui questo è molto interessante anche perché può permettere di avere un format che si sposti e anche perché se poi l'evento piace la gente poi si sposta per andarlo a vedere come chiedono c'è un festival per tutte le età e ci sarà anche un'area per i bambini questo è un doma è il domandone purtroppo devo devo demandare la cosa agli organizzati promoter locali nel senso io per quello che mi riguarda cosenza penso di di dare anche questa possibilità in tutta Italia non so dircelo al momento non so dircelo poi andando vedendo anche perché i festival cominciano a essere e poi se parli della nostra generazione in tanti hanno famiglia e quindi è normale che ci si chieda questo se si può venire tutta la famiglia però dai immagino che per gli eventi durante la giornata e sia più facile magari magari la sera live quando c'è molto bordello è meno consigliabile ma voglio dire questo deve essere veramente molto molto difficile ma una sfida è veramente assoluta quella che ti sei trovato grazie io guarda Andre devo diciamo elogiarti perché c'è la disponibilità che hai avuto tu è disarmante ed è quella disponibilità che ti fa dire cazzo dobbiamo andare avanti credimi è quella disponibilità che dice minchia cazzo facciamo un po di background Luca mi ha scritto mi fa ho un'idea e ti andrebbe di fare una chiacchierata sì e ancora non mi avevi detto del festival parliamone c'è qualsiasi in realtà per me è importante mettergli il mio piccolo grande focus che posso avere quindi se posso dare una mano a queste iniziative e molto spesso che l'ho visto come organizzatore di concerti piccoli piccolissimi grandi anche più grandi ma mi sono sempre trovata nella mia dimensione nella data molto piccola e quindi se posso far conoscere questo progetto a qualcuno in più per me è una vittoria anche perché da manifestazioni come queste ne usciamo fondamentalmente tutti quanti vincitori perché è un qualcosa che arricchisce tutti dal mio punto di vista è qualcosa che arricchisce ovviamente e sia noi culturalmente che anche lo stesso territorio che ne può giovare tantissimo e il fatto di portare e di portare alta all'interno e il fatto che verranno coinvolte per mangiare per bere sicuramente delle delle realtà locali che può essere quello che fa i panini o la focaccia e il fonico a quello locale le band credo che essendo una cosa spalmata in tutta Italia non ci sarà la band di Genova a Canzaro e la band siciliana ad Aosta ma credo che sia una cosa locale sarà una cosa locale esattamente quindi favorire fra virgolette e dare un'opportunità anche ai locali che non hanno modo di farlo di farsi vedere e di creare comunque nel nostro piccolo un piccolo indotto di lavoro voglio dire chiamare il ragazzo che fa i panini piuttosto che chiamare il service o i fonici o i tecnici è tutto comunque lavoro per cui bene così benissimo così adesso questo che acceno adesso è un argomento che magari svilupperemo e quando verrò a fare la puntata in sala pombo prove con la cross Andre ti ripeto quando vieni tu sei ospite a casa mia poi ti porto a mangiare pure da mamma e papà che mamma ti farà mangiare il stile matrimonio credi sono vegetariano ho paura per ingraziuto a vegetariano non ti preoccupare anche la vegetariana mi ingrasserai com'è la situazione o l'avere una punk band a cosenza oggi e quale difficoltà ci sono io vengo da una zona rimini che è vicino a bologna non è lontano da milano ci sono c'è cesena forlì ci sono tante scelte ogni volta e quindi mi sento che vengo da una zona privilegiata invece per quel che riguarda voi anche avere un concerto eccetera da noi le cose ci sono ci sono si muovono ci sono diversi spazi che organizzano concerti punk hardcore c'è lo sparro che è un centro sociale si arrende c'è l'auditorium popolare rialzo che organizza concerti punk che ne ho organizzato là qualcuno anch'io quindi la scendono parecchie band anche ultimamente ci sono stati cgb crime gang bang i defezioni insomma si muove la cosa e per quello che si riesce perché comunque una band di milano per scendere giù ovviamente deve chiudersi un tour di almeno 5 6 7 date qualche dato di appoggio ci vuole perché se noi sarebbero qualcosa di devastante però si suona Andre si suona ci sono un sacco di realtà molto valevoli che purtroppo non hanno magari lo spirito intraprendente di mettersi e di comunque di cominciare a dire se voglio farmi conoscere comunque devo prendere un furgone e devo partire a suonare perché non ci sono tanti che tengono altra domanda che spesso faccio è le band di giovani ci sono la tua faccia dice tutto partiamo dall'assunto che noi siamo giovani però di più giovani di noi 18 anni intendo 18 20 anni ok c'è qualcosa c'è ti dico che qua giù da noi sta succedendo una cosa strana Andre tanta gente che suonava tanti anni fa e ha smesso da un anno da un anno un anno e mezzo a sta parte si è rimesso a suonare si ha cominciato a fare dischi ha ricominciato a fare dischi e ha cominciato a risuonare una cosa stranissima non è strana io penso che sia fondamentale se hai la passione per qualcosa non è che ti passa perché metti su famiglia o per il lavoro eccetera è una cosa che è da dentro e quindi per stare bene con te stesso hai bisogno di portare avanti la tua passione che tu abbia 15 20 25 70 anni e quindi questa come la vedo io assolutamente diciamo che magari acquisisci la consapevolezza che la vita che avevi prima senza la musica non è più la stessa sì e chiedono se hai anche contatti in Sardegna Sardegna fatti avanti chi sei? music is my way comunque lascerò qua il link di Stay Strong Festival e sarebbe bello per il momento lascerò nel re-upload che farò di questa live su YouTube della pagina Instagram per contattarvi per esempio adesso magari lo vedono tante persone questo video una volta che andrà su YouTube speriamo e come fa un ragazzo che è interessato a contattarti e qual è la procedura per poter avverire allo Stay Strong Festival? guarda a me stanno scrivendo sia sul profilo mio privato Luca Garro esatto Luca Garro stanno scrivendo anche su Instagram in tanti veramente in tanti band che chiedono di poter suonare piuttosto come funziona che state facendo cos'è che roba è quindi possono tranquillamente contattare o me o Andrea Luca Garro e Andrea Venneri piuttosto che Stay Strong Festival su Instagram ok quando saremo fuori con la pagina Facebook credo proprio questione di giorni quindi ci sarà anche la pagina Facebook ottimo ottimo sì 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 lo chiedo per chi può essere interessato a partecipare serve già avere un posto un'idea di dove fare questo festival oppure vi confrontate anche voi potete dare qualche dritta eccetera magari c'è qualcuno che dice è molto interessante mi piacerebbe portarlo nella mia zona però mi serve un po' di aiuto un po' di coordinazione dall'alto sì sì io sono aperto anche a questo tipo di discorso qua questa cosa mi è successa a Perugia Andre una persona mi ha contattato mi ha detto senti Luca io voglio darti una mano però non so come fare ecco ok mi è successa ho detto guarda non ti preoccupare sto facendo da tramite tra lui e un'altra persona che organizza la live a Perugia e stiamo tirando su anche Perugia da questa cosa qua quindi se hanno bisogno di una mano io lavorativamente parlando parlando in determinato orario non sono disponibile però alla sera posso ci sono quindi se vogliono se vogliono fare qualcosa hanno bisogno di una mano sia io che Andrea Venneri siamo assolutamente disponibili nessun tipo di problema mentre per quel che riguarda all'interno del festival è quel momento che ci sarà il collegamento tra tutta Italia e come pensate di farlo? ma sarà una live molto diciamo molto veloce ok perché se arriviamo a 20 realtà conta che non possiamo ritagliarci più di un'ora un'ora e venti un'ora e mezza perché ah un'ora è una cosa mica da poco come live diciamo che ognuno esporrà come come l'ho organizzato che cosa fa chi suonerà piuttosto che che altro insomma sarà più un feedback sul che stai facendo cioè il concetto è quello di dire ma tu in questo momento che stai facendo? bene io credo che questo che voi stiate proponendo sia il modo più intelligente e costruttivo di sfruttare l'epoca social perché è un grande mezzo che ci troviamo a portata di mano qui e se usato con intelligenza come un progetto come il tuo Luca penso che sia veramente il bello di avere questa tecnologia e questa interconnessione questo è il bello del è il bello di questi social esatto poter creare contatti e creare qualcosa di costruttivo esattamente andrei colto proprio nel segno quale il senso cioè il fatto del lockdown ci ha insegnato che almeno a me che questi mezzi qua questi social questi mezzi qua hanno se usati in maniera opportuna non possono che essere un bene non possono che essere un bene con i tempi che corrono per cui giusto giusto tutto hai detto che il lockdown è stato particolarmente difficile per te come mai hai avuto è stata dura no no dico sì è stato difficile nel senso che comunque trovarti dalla mattina alla sera perché magari su c'era già il sentore una quindicina di giorni prima che le cose potessero andare in quella maniera da noi da noi in Calabria è stato veramente un fulmine a Celsereno quasi nel giro di 48 72 ore ci hanno chiuso in casa nel senso senza sì perché comunque sentivi i TG che dicevano c'era sta roba qua c'è sta roba qua però fino a quando non ci hanno realmente chiuso no io l'ho vissuto bene comunque cioè perché comunque mi sono dato da fare anche grazie al festival cioè mi sono mi sono inventato questa roba qua che ero impegnato tante tante ore al giorno credo che dal credo che dal dalla difficoltà si è riuscito a trovare qualcosa di costruttivo infatti molto molto bene esatto esatto bravissimo magari sai cosa possiamo fare in futuro e siccome io il lunedì faccio sempre una live libera e dove parlo un po' così con gli iscritti e gli argomenti possono essere vari magari un lunedì molto più avanti o molto poco più avanti se le cose andranno meglio e tornerai con una chiacchierata veloce per vedere per dire a che punto sta il festival e aggiornarci un po' va bene? oh no Luca è crollato di nuovo magari quel lunedì che lo portiamo speriamo che abbia una connessione migliore ci sono ci sono perfetto ecco allora ti chiederemo ok perfetto a disposizione Andre quando vuoi molto bene quando vuoi vediamo come vanno le cose e magari ne riparliamo quando ci può essere almeno un'ipotetica data esatto speriamo il più presto possibile allora biscottino anzi da material boy mi chiedo se del merch da vendere anche prima del festival non possa essere utile a raccogliere dei fondi stiamo ragionando anche su questo e credo che questa cosa si farà abbiamo già avuto una persona che si è offerta per stampare delle robe beh sì lo faremo sì ok avete pensato anche se credo sia un po' difficile essendo tante realtà e fare una specie di crowdfunding però e mettere insieme tante realtà con un crowdfunding la vedo due però questa cosa ci avevo pensato ma credo che sia un po' ingestibile credo che sia un po' ingestibile da che punto di vista dal punto di vista che non sono solo io la testa ma siamo venti teste sì ti dico che siccome in questo festival sono inserite anche delle realtà anarchiche ci sono anche degli spot c'è uno scott in particolare a Benevento questa roba qua non gli va molto a genio e io siccome rispetto tutte le decisioni tutte le persone se una cosa non va a genio a uno su venti per me non si fa ok però questo giustamente ma da organizzatore di concerti eccetera magari eravamo in tre e era fatica metterci d'accordo in tre mettere d'accordo tutti quanti e cosa fai facendo santo di qui a poco esatto 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 è un bordello questa roba qua anche perché magari però nel festival di una città suona un gruppo che non può piacere che ha fatto uno sgarbo a qualcun altro è difficilissimo capisci capisci sì sì è difficile ma non è impossibile ottimo sono molto contento io Luca ti ringrazio e spero che ci aggiorneremo molto presto per per potermi dare qualche più informazione rispetto alle date e il progetto vedrò di supportarlo con tutti i miei canali quindi ti mi sempre aggiornato e vedremo di andare avanti grazie mille ti ringrazio nuovamente per la disponibilità e per lo spirito per lo spirito per me va già benissimo così grazie a te Luca e un ringraziamento a tutti i partecipanti e le partecipanti della chat per le varie domande e quanto noi ragazzi ci becchiamo come al solito molto presto è stato un piacere grazie a tutti grazie Andre stay strong stay strong alla prossima ciao alla prossima